Adesso s'interesuma di averbe, di averbe che accompagna il verbe, l'aggettivo per un'autoverbe. I averbe, secondo la classifica che fa Camino Barreiro, la sua grammatica più contesa, potrebbe essere in maniera, in quantità, in tempo, in legge, in opinione. Dopo i giorni, il nome ha marcatato la lavagna, che ha aggiunto questi averbi, averbi in maniera, ecco, being, male, pes, bene, male, pes, peggio, adasi, adagio. Tenho presente, per, in effetti, la scrittura piemontese, mi vedo che vi, le persone che hanno butto, adasi, hanno butto l'accento, insomma, a questa sconda, adasi. La famiglia manca. In Piemonteis, le parole che ha finito per vocale, apporto l'accento, apporto il tung, insomma la penultima sillaba. La sa già, è la regola. Quindi, adasi, aventa nel marchello. Come, vedo, per esempio, più, ma per esempio, di averbi ad quantità. Tanto, mutubing, mutubing, fa ne da manca il marchello, l'accento, assang, insomma la i, adbing, perché le parole trunche, le parole che ha finito per consonante, ad regola, apporto il tung, insomma l'ultima sillaba. Quindi, la sa già, quindi, non è necessario marchello. In tal caso, da sé, questo è accentamento a marchella, non è l'eserio asse, eh, l'eserio asse. Nel caso, a troppe, si rima una parola con una sillaba sola, a faria ne da manca il butto in accente. Però l'accento si ha il valore che non è troppe ma troppe. Allora, quando la o, l'è estreita e la pronuncia u, in pratica, tipo per esempio, cul, che corrisponde all'italiano quello, invece, lì, per di, il colle, il colle, quindi la o va accentato, ma va accentato al caso troppo, la o doverta. Allora, l'umadit, bing mal pesa d'asi, ma Brero, la sua grammatica piemontese, ha una marca tanti d'auti. Per esempio, altuc per di tastoni, ambos per di bocconi, apansamola, sempre per di bocconi, a gattagnau, carponi, descundiung, di nascosto, anginuiung, ginocchioni, arvers, rovescio, supino, ammèi, ammollo, supin, supet, zoppiconi, bel, per di questo, zikin, ziket, per di subitamente, zikin, ziket, distranguung, quindi, in tal senso, mangiam presa, angusantse, quindi ingozzandosi, ad pianta completamente, maitas, maitas, per di, ecco, non vedo l'ora di, le maitas che, che capita son, daraire, raramente, spresse, per di apposta, bel per di proprio, bel e bing, benissimo, per azar, per fortuna, parei, in tal senso, così, ecco, se puduma evitare di così, ma le mie, il primo teggio, se le parei. Mi tu mi tena, così, così, mediocremente, mi tu mi tena, forte, fortemente, pian, piano, sottovoce, volunte, volentieri, voluntera, così, volentieri, ecco, questi, sento un po' purosie parole, ang, cirimirli, per dire elegantemente, che li estero, ma le ang, cirimirli, dusman, dolcemente, maloresman, sfortunatamente, mentemi, dovrerianen, facilmente, no, perché, per di facile e difficile, an piemonteis, avventa di, alle belfe, alle malfe, no, quindi è facile, alle belfe, alle malfe. Mentre, an piemonteis, per dire gloriosamente, tranquillamente, e disuma mai gloriosamente, tranquillamente, ma piuttosto gloriosamente, tranquillamente, insomma, no, anduma tranquilli, andiamo tranquillamente, anduma tranquilli. A verbi di quantità, ecco, sì, l'uomo ha marcat, tante, tante, mutubing, che poi, anche una parte del Piemonte, si pronuncia mutubeng, no, mutubeng, ma le sempre, corrisponde sempre a molto, assè, per dire assai, che basta, troppo, per di troppo, e poi, ecco, vaiere, vaiere, per esempio, vaiere che sono, quanti sono, insomma, non è quanti assumono in Piemonteis, ma vaiere che sono, amaloc, abbondantemente, basta abbastanza, e passa, per di molto di più, per di alla 30 anni e passa, cioè alla picca e 30 anni, meno, scars, per dire scarsamente, mac, per dire solamente, dovrà tanto al mac, l'hai, l'hai visto, mac ieri, per dire, l'ho visto solo ieri, poc, poco, tante si poc, un pochino, tante si poc, un pochino, pru, assufficienza, e ne è pru, va per esempio a cattere, il formaggio, diciamo, un formaggio in alto, e poi, il negoziante fa, non ve lo ancora in alto, no, e ne è pru, e ho abbastanza, non ha assufficienza, poi, ecco, averbi il tempo, ecco, questi, azza des, che sta per tra poco, azza des, gli sarai da di azza des, sarai da te tra poco, ades per di adesso, ma dico la minuta, no, piemontese, la minuta, poi, ora, ore, aura, aura, per di ora, eh, che poi, aura, con l'aura lì, alle pronuncia, non è tutto il Piemonte, aura, ma per esempio, nel cannavesse, dice, aura, no, e allora, in questa casa, avendo abitato, l'accento, si malà, aura, domanans, stamattina, per di stamattina, stamane, stasera, anchei, oggi, anchei, domani, sling domani, ieri, ieri, dopo domani, dopo domani, passa domani, sempre per dopo domani, passa domani, no, in forma, più piomontese, ancora che dopo domani, subito, per dire subito, ma, almeno, di dunha, dunha, subito, spero che lì, se è lunga, in piemontese, suvense, suvense, viravoltà, soventissimo, quindi, viravoltà, che non contro, non contro suvense, e poi, minca poco, per dire spesso, minca tanto, ogni tanto, ma l'aito, un po' di tempo, prima, prima, dopo, e appres, per di dopo, per di appres, mesi, o dom mesi, poi, 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 dopo, dopo, mentre, per di mentre, per l'antramente, mai, come l'italiano, mai, sempre, o sempre, per di sempre, una volta, un tempo, una volta, una volta, una vira, una vira, tosto, tosto, tarda, tardi, comienza, da prima, torna, di nuovo, e là, se se, torna da me, se se, sei di nuovo da me, sei nuovamente da me, giumai, per dire oramai, d'ora in poi, giumai, a verbi, ad l'ug, ecco, verbi, l'ug, non va marcar, aranda, nazisco da cante, aranda, per dire, accanto, vicino, davsin, per vicino, appres, per dietro, dare, dare, dietro, per edop, drinta, per di dentro, fora, per di fuori, zura, per di sopra, si ang si si per qui, ambele si per di qui, li ang si per di, ambele li, ambele la, etra si, ang sa, ang, cioè in qua, in là, eccetera, in una macula da, per di un, in italiano, per di, ma siung si, ecco, dovremmo compiere un teso, avendo il latino si, ecco, ma, ecco, da altre maniere, pi pi mu un teso ancora, per esempio, la e, e, che avendo il latino, no, quindi, e per di si, ecco, anche oie, oie, le contesse, eh, per di una marca, propri, da buone, col propri, eh, agli, con tutte forme, per proprio, cioè, e franche, e giusta, ne, per i da buone, più o meno, di stesse sensi, davvero, ecco, per i, vediamo un po', e tanti dauti, già, bing, sicura, giusta, un po' di un omaggiadilo, eccetera, negativo, ecco, questi, opinioni negativi, un no, neng, pa, neng dautut, niente affatto, neng dautut, eh, per di niente, sì, ma si scompia un test niente, ma basta di neng, pi neng, non più, papi, non più, eccetera, no, quindi, in Roma, abbiamo visto un po' chi da, da verba, nianca, pi nianca, mai, mai, nianca sta per neanche, ne, neanche, dubius, e qui dubius, che l'uomo non è marcante, ma dubius, forse, forse, ma, ha detto, miracolo, eh, miracolo, ha detto, maraman, per dire forse, per rendere forse italiana, ha detto, sancapita, per dire al forse italiana, salakad per caso, conforma secondo che, ecco, conforma, conforma come chi sta, che io vado, io vado, io vado, ecco, probabile per dire, probabilmente, e poi gli interrogativi, ne, ne è vero, codisto, codì, perché mai, come mai, che dici mai, eccetera, è un numero enorme, insomma, da verbi, in Piemonte, ecco, ma, mi, mi sarerei a questo discorso, di avermi, e passeria ai sostantivi, perché, insomma, l'ultimo numero, la sloire, numero che l'hai, mentre fa su questa lezione, che è il numero, 50, giugno 2007, alle sortie, la prima parte, le lettere A e B, due vocabulari per i marinar, Deva, Salà e Dussa, no? Fait, da noi che facciamo l'ise, Robon, Felice Robone, vocabulari per i marinar, Deva, Salà e Dussa, e allora vediamo un po', come speldisse, talen gaci, marinar, abbigliamento, muda, abbassare, calè, abbasso, suta, abbattere, fireddare, abbordare, ausinè, abbrivio, andi, accendere, anvisché, acciaio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile, acciaio capia nel ruso, acciuga, anciua, accostare vicino a, andè a randa, a dritta, per dire a destra, o a dritta, a sinistra, a sinistra, a zizia, a piemontese, a gauccia, a gauccia, accostare curva, accumulatore batteria, acqua, eva, ecco, scele, la parola, eva, rende, al piemontese, rende l'italiano, acqua, avendo il latino, acqua, ma, dal latino, acqua, sì, sai che, nel neusent, magari, con il scezento, si acostumava, dovrei, la sostantiva, acqua, per l'italiano, acqua, no, acqua, però, senza la c, acqua, come in latino, allora, che lui, puoi pensare che, la vai suguernare dal latino, come la fai con un magistere, magista, no, la vai suguernare, queste parole dal latino, ma il lume non guernare dal latino, il latino, la fai una trasformazione, che apporta al piemontese, eva, eh, la trasformazione, quindi la parola giusta, dal latino, acqua, alle eva, dunque, ecco, sì, vedo, per esempio, acquazzone, ramassun, ad agio, da ziot, affiorare, vnia fiurdeva, affogare nie, affondare funghe, agalla zur eva, aggiustare range, ago guccia, agugliotto, poli del timung, alare, bute al sud, alba primalba, alberare bute l'erbo, albero erbo, erbo d'anau, albero maestro, erbo meiste, albero di mezzana, ad batikul, di bonpresso, cinà, di trinchetto, trinchette, agomiti, erbo, ah sì, col do, caluciama, albero porta bandiere, porta insegne, allargo, anfora, alla deriva, arabelle, a ridosso, da para, al vento, ancontra, e poi iniettanti, insomma, assuma la litra B, che si era fatto un vocabolario, che è una meraviglia, sarà pubblicato, scuntino, anti-autinumera, della sloira, ecco, Sì, è una parola che, mi conosco non è, nell'ingaggio di Marinar, ma per esempio, abita a Baglio, Baglio, che ce ne è in cosa che sia, che in Piemonte, se lo rende con, travo del cuart, balumina, urlo da re, banchina, che, bandiera drapò, bando, in bando, arlamà, banzigo, braga per grimpè, qui, stiamo in tessa in Marinar, per conoscere tutte queste parole, che conosciano in italiano, in Piemonte, e magari questa lettura, è una buona occasione, per imprendere, che cosa, che sa, vieni, ecco, la bussola, è sempre la bussola, deviazione della bussola, scarta della bussola, fare i giri di bussola, accomodare la bussola, fare i giri di, da rilevamento, per brachè, eccetera, quindi, non so se, è un lavoro molto imprezzioso, se non si, in tal grimpato, si è tutta, ma io credo, non è, tante queste cose, in tal neoglubale, d'astronen, e loro avendo, lese, anche si malaslo, in una rivista piemontese, siamo arrivati, alla fine, in questa, città lezione, ad grammatica, dove, roma, tocca, l'argomento, e la verbi, e poi, siamo passati, ai sostantivi, e roma, parla, di sostantivi, del vocabolario, per i marinar, che la faite, se siamo, a Monsu, Rubun, Lise Rubun, alla fallo, per la sloiera, e la pubblicana, prima parte, a giugno, del 2007, 2007.